Furto nella notte tra sabato e domenica alla Palazzo delle Laudi di Sansepolcro, la sede municipale. I ladri sono entrati in azione nel cuore della notte e hanno forzato una finestra che si trova sul retro dell'edificio e si sono introdotti all'interno dell'edificio. Obiettivo dei banditi molto probabilmente è l'incasso di Borgo Sporta, manifestazione dedicata alle società sportive che si è svolta sabato sera, ma hanno fatto un buco nell'acqua, il denaro infatti non era stato ancora depositato. La mala scoperta è stata fatta domenica mattina, i ladri sarebbero entrati proprio da quella finestra che sarebbero riusciti a raggiungere impilando circa una ventina di sedie. I banditi hanno visitato alcuni uffici, tra questi anche quello del sindaco Mauro Cornioli, infine la fuga dei ladri con alcune migliaia di euro trovati in una cassetta di sicurezza. Ad immortalare la banda di malviventi le telecamere di videosorveglianza della zona, le immagini adesso sono al vaglio dei carabinieri che stanno portando avanti le indagini.